Covid-19, dati statistici dell'Istat, bufale, fake news, bene cari amici, mi sono informato sugli ultimi dati dell'Istat e l'Istat ci informa che in questo periodo di Covid-19 sono morte più persone, 30.000-40.000 persone in più, delle persone che morivano negli stessi periodi dell'anno scorso. Il fatto è che sono circolate tante fake news, tante bufale e anch'io ci sono cascato. Queste fake news, queste bufale dicevano che in questo periodo di Covid-19 in Italia sono morte meno persone di quante ne morivano negli stessi periodi degli anni precedenti. Si trattava di bufale, di fake news, sono uscite proprio con la scritta dell'Istat, io non so quali interesse abbiano avuto a fare queste bufale, volevano sdrammatizzare. Anch'io sdrammatizzo il Covid-19, il coronavirus, ma lo faccio con altri argomenti, senza falsificare i dati. Allora, è vero, il Covid-19 ha ucciso attualmente 40.000 persone. Consideriamo che tutti gli anni in Italia, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, sono sempre morte circa 600.000 persone. Va bene? circa 600.000 persone tutti gli anni sono sempre morte. Ora ipotizziamo che nel 2020, alla data del 31 dicembre del 2020, anziché morire le solite 600.000 persone, muoiano 650.000, 670.000, 700.000 persone. Cioè ipotizziamo che muoiano 50.000 o 100.000 persone in più delle solite 600.000 che solitamente muoiono in Italia tutti gli anni. Cioè ipotizziamo che il Covid-19 al 31 dicembre del 2020 abbia causato la morte di 50.000 o 100.000 persone. Però va precisato che queste 50.000 o 100.000 persone uccise dal Covid-19 sono quasi tutte anziane. Sì, sì, ci sono anche dei giovani, ma sono quasi tutte anziane le persone uccise dal Covid-19. Persone anziane, quasi tutte nelle residenze sanitarie assistenziali, quasi tutte gravemente ammalate, quasi tutte gravemente sofferenti. Il Covid-19 avrebbe, alla data del 31 dicembre del 2020, ucciso in Italia, ucciso in Italia 50.000, forse 100.000 persone già gravemente malate, molto anziane, molto sofferenti, tenute in vita quasi artificialmente. Poi relativamente ai giovani morti per Covid-19 si dice che il Covid-19 ha ucciso dei giovani sani. Sì, ma si può essere sani con delle basse difese immunitarie. Io vorrei farvi l'esempio dell'HIV, il virus che porta all'AIDS, la sindrome dell'immunodeficienza acquisita. Nessuno ha mai fatto delle statistiche per stabilire quante sono le persone che sono venute a contatto con l'HIV ma non sono state contagiate perché avevano delle difese immunitarie forti. Cioè uno può essere giovane e anche sano ma avere delle difese immunitarie basse per cui si è preso il Covid-19. Io per esempio, io serafino Massoni, autore di quest'opera storico-mitologica, ho più di 80 anni e il Covid-19 non l'ho preso perché si vede che io ho delle difese immunitarie forti. Allora, alla data del 31 dicembre 2020 potremmo dire in Italia il Covid-19 ha fatto morire 50.000-100.000 persone in più del solito ma queste persone morte erano tutte molto anziane, gravemente ammalate, gravemente sofferenti, in una situazione di fortissimo disagio, quasi tutte dentro le case di riposo, allettate, magari alimentate col sondino e via di seguito. Va bene, cari amici, queste sono le mie considerazioni. Quindi, io pure sono stato vittima delle fake news, fake news nate per sdrammatizzare il coronavirus, ma non si agisce in questo modo, non si sdrammatizza il coronavirus fabbricando dei falsi. Io non ho mai fabbricato dei falsi, ho detto soltanto che il coronavirus, il Covid-19 è un virus gerontofilo, gerontofilo, cioè che ama andare con gli anziani e che li fa passare a miglior vita un po' anzitempo, un po' anzitempo. Ok, cari amici? Bene, cari amici, a tutti i tanti cari saluti da Serafino Massoni e a tutti auguro di poter leggere questa mia opera storico-mitologica che spiega come è avvenuto il passaggio dal matriarcato al patriarcato. Ok, ok, ok.